cari amici di mille un'avventura si avvicinano i quarti di finale belgio italia che venerdì 2 luglio verranno giocati alle 21 i quarti di finale di questo europeo che speriamo facendo i debiti scongiuri che porti qualche buona notizia alla fine e allora per celebrare questa partita che deve disputarsi e portare la necessaria fortuna alla nazionale proviamo a giocare con gun tactics questo gioco che nel 2004 pubblicato e di cui si sono disputati vari tornei nel corso degli anni passati più di dieci anni fa ormai gli ultimi tornei ecco proveremo a giocare una partita anzi una serie di partite visto la tipologia di gioco alla modalità soccer di gun tactics che avevo già mostrato qualche tempo fa sul canale ma che fa piacere rivedere in queste occasioni e su gun tactics modalità soccer un giocatore immagino belga scusate mi tolgo un attimo di torno così lo vediamo meglio aveva creato una squadra di bot perché in gun tactics ci sono tanti bot che giocano gli uni contro gli altri e nella modalità anche calcistica diciamo e un giocatore belga aveva creato una serie di bot intitolati a paul vanimst che è questo famoso giocatore belga forse il migliore giocatore belga di tutta la storia non so se ultimamente ce ne sono altri che hanno fatto meglio e comunque un giocatore del 43 ormai ritirato famoso se alcuni di voi seguono il calcio sicuramente di tanti anni fa sicuramente lo ricorderanno e allora nella modalità soccer di gun tactics è stato possibile giocare alcune partite con giocatori con squadre di bot create da me dal nome roby baggio all'epoca andava di moda roberto baggio e vanimst c'era anche un una squadra intitolata zidane ma ormai la francia in questo europeo la possiamo salutare ciao ciao ci vedremo in qualche altra occasione magari nei prossimi mondiali e allora andiamo subito a giocare queste partite in gun tactics modalità soccer tra la squadra vanimst belga e la squadra roby baggio italiana vediamo chi vincerà ecco il gioco gun tactics in esecuzione giocheremo una partita tra la squadra belga intitolata vanimst e la squadra italiana intitolata roby baggio roby baggio l'ho programmato io vanimst un giocatore di cui adesso non ricordo il nome ma che immagino fosse belga quindi cercheremo di riprodurre in questo video la partita che si svolgerà tra qualche giorno nella realtà in questo europeo 2020 spostato al 2021 iniziamo a giocare ecco siamo dalla porta belga i belgi qui sono rappresentati dai giocatori scusate ma sto cercando di capire come muovere la telecamera ecco ci siamo ecco i belgi sono quelli in marrone diciamo così o col colore più scuro gli italiani sono quelli rossi e vediamo se perfetto primo gol dell'italia come vedete ogni volta che la palla viene mandata in rete c'è un giocatore che viene eliminato di solito quello più vicino alla porta ora i belgi stanno prendendo l'iniziativa c'è un lungo lancio verso la porta italiana i difensori stanno cercando di evitare il gol vediamo ecco sono riusciti a respingere l'attacco belga però si stanno riavvicinando ed ecco che il gol belga è arrivato siamo 1 a 1 quindi tre giocatori contro tre giocatori la squadra italiana sta riportando la palla verso la porta avversaria ed ecco che clamorosamente viene ribadito in rete il tiro viene ribadito in rete e siamo quindi 2 a 1 però adesso l'iniziativa è tornata al belgio ma la nostra difesa fa scudo e si ribalta la situazione ed ecco che viene eliminato siamo ormai vedete 3 a 1 temo un gol no siamo riusciti a rintuzzare il tentativo avversario e ora probabilmente se riusciamo a ribadire in rete la palla si è fermata proprio lì perfetto abbiamo vinto la partita la prima partita e appannaggio dell'italia quindi diciamo che il replay non lo vediamo abbiamo già visto ripetiamo la partita questa volta con posizioni diverse ecco la posizione del belgio e qui sopra la posizione dell'italia che è rimasta intruppata nella porta è lì in basso ecco che escono vanno all'attacco però il lungo lancio belga ha già portato un primo gol però l'italia subito prende subito prende l'iniziativa per riportare ecco 1 a 1 siamo 1 a 1 la palla è tornata al centro pericolosamente la palla si è avvicinata alla porta italiana ma la respingiamo e ora cerchiamo di fare gol ma perfetto quindi siamo mi pare 2 a 1 si 2 a 1 ma ora arriva il 3 a 1 immediatamente ecco 3 a 1 stiamo eseguendo queste partite al meglio delle 5 perciò se vinciamo questa ogni tanto vedete che i giocatori vanno a prendere questi power up che si trovano sul campo che sono power up di energia e consentono ai giocatori di correre se esauriscono l'energia possono solo camminare altro gol perfetto e abbiamo vinto anche la seconda partita non ci resta che tentare con la terza partita vediamo se la squadra intitolata a vanimst la squadra belga riuscirà a riavvicinarsi a tentare di insidiare il primato italiano quindi ripetiamo per la terza volta la partita questa volta le due squadre si fronteggiano nelle porte una contro l'altra è stato respinto l'attacco italiano la palla torna al centro ed ecco che non riusciamo a indirizzarla nella porta ma in realtà ecco perfetto a porta vuota c'è un difetto evidentemente nel programma quando la palla è molto vicina alla porta i bot italiani non riescono a ribadire in rete e quindi andrebbe un po migliorata questa situazione ora sembra una posizione esatto era una posizione favorevole e quindi siamo riusciti a segnare la prima rete ora siamo tornati al centro a prendere il possesso della palla riprendiamo ad attaccare ecco e diciamo che siamo di nuovo 2 a 0 siamo in vantaggio riprendiamo nuovamente la palla siamo quasi 3 a 0 esatto e ora direi che ci avviciniamo al 3 a 0 finale di queste partite al meglio dei 5 che non hanno visto assolutamente è perfetto abbiamo vinto anche questa partita forse mi ricordavo vanimst la squadra belga molto più pericolosa in effetti ma probabilmente era studiata per otto giocatori adesso facciamo una prova con otto giocatori vediamo se riesco a impostarlo ecco otto giocatori proviamo a fare una partita con otto giocatori vediamo però già abbiamo vinto 3 a 0 è il nostro pronostico per la prossima partita italia belgio vediamo se portiamo fortuna o sfortuna la nostra nazionale poi però non venitemi a cercare ovviamente se andasse male incrociamo le dita e partiamo con squadre da otto giocatori non riesco a uscire di qua ecco ecco che ho le solite difficoltà a pilotare ecco dunque partite molto più caotiche quelle con otto giocatori tra l'altro si ostacolano molto più facilmente i bot riesco a seguire o ecco adesso riesco a seguire dunque ecco che attacchiamo la porta belga deve essere quella laggiù niente siamo in vantaggio anche con le squadre 8 contro 8 di nuovo prendiamo l'iniziativa e siamo già 2 a 0 riprendiamo l'iniziativa no questa volta ahia ecco perfetto siamo 2 a 1 i lanci lunghi di van inst fanno molto male alla nostra squadra ma siamo 3 a 1 a questo punto riprendiamo la palla al centro la portiamo di nuovo verso la porta avversaria e sbagliamo il tiro e non riusciamo a uscire di lì questa è questa mancanza di precisione lancio lungo belga vedete quanto siano precisi i lanci lunghi della squadra belga e non riusciamo a spazzare via la palla se ci siamo riusciti cerchiamo adesso di riportarci pericolosamente contro la porta della squadra avversaria ora dovremmo accentrare ecco che ci accentriamo e segniamo e quindi 4 a 1 torna la palla al centro ne abbiamo di nuovo preso il possesso e non riusciamo a segnare ma non è possibile ecco l'autogol della squadra belga sembra troppo facile in effetti vediamo ormai siamo 5 a 1 non c'è più storia però vediamo quest'ultimo lancio non ha fatto lancio lungo stranamente quindi rubiamo la palla il tempo è finito quindi la squadra roby baggio ha vinto questo non conta anche se i giocatori continuano a giocare bene questo era gun tactics modalità soccer con varie squadre che si erano contese il titolo io mi ricordavo una squadra vanimst molto più efficace ma evidentemente il tempo ha fatto in modo che i miei ricordi si affievolissero e quindi in realtà non c'è stata storia abbiamo stravinto contro il belgio vediamo se sarà così anche nella realtà non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e buona partita italia belgio per il prossimo per il prossimo incontro dei quarti di finale e faremo il tifo ciao a tutti